Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Gianluca e oggi siamo nel vlog numero... Aio! Due Uno, due, due Vedi? Allora Oggi vorrei parlare un poco del mio canale Quando vedete i miei video Vabbè che non è che li vedete tanto Scrivetemi anche dei commenti Ho lasciato un mi piace Vabbè se volete Se mettete dei commenti Per esempio con i giochi che posso fare Divertenti D'azione Di guerra Eccetera Credo che non ho altro da dirvi Ricordatevi di lasciare sotto questo video O negli altri video Un bel mi piace E andatevi a vedere i video di FIFA Che sono molto divertenti Che ho fatto Bello Grazie Ah 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 Sta registrando Vabbè Io i fail li faccio ogni giorno Quindi non mi uscirete Grazie Grazie Grazie